Noi non dobbiamo temere nulla, noi rispettiamo il risultato dei cittadini francesi, è importante che ci sia stabilità in Francia, ci sia stabilità in Europa, come ho sempre detto, io come Ministro degli Esteri parlerò con il futuro Ministro degli Esteri a qualsiasi forza politica appartenga, perché i rapporti dello Stato italiano sono con lo Stato francese, quindi indipendentemente da chi lo rappresenta, noi dialoghiamo con la Repubblica francese. Se poi volete sapere chi sono i miei interrogatori politici in Francia, sono quelli del Partito Popolare Europeo, cioè i Republican.